Siamo alla sesta giornata di campionato di seconda categoria girone B. Il pomarico affronta fuori casa l'Avis Burgentia, partita ostica per i pomaricani che sfidano una delle squadre più forti del girone. In campo si vede un pomarico non bellissimo, troppo macchinoso e lento ma che comunque si rende pericoloso in alcuni frangenti. A centro campo un grande Giuseppe Acito che lotta a tutti i palloni bloccando le ripartenze avversarie. Al venticinquesimo del secondo tempo Giovanni Carioscia sigla rete del vantaggio su un'azione personale saltando in velocità due uomini. La partita poi finirà con il risultato di 1-0 per il pomarico. Vediamo ora le interviste. Sono insieme a Giovanni Carioscia, una bella partita di Giovanni che ho venito, è un infortunio e abbiamo visto che ti sei ripreso abbastanza bene e che ha anche segnato il tuo primo gol. Raccontaci un po' come è andata la partita e come hanno giocato anche il tuo compagno. Il mister mi ha dato l'opportunità di partire titolare, ricordiamoci che vengo da un'infortunio abbastanza grave al ginocchio. Questa è la mia seconda partita e vincere con un mio gol è una sensazione abbastanza felice. Del resto abbiamo dominato dal primo minuto, al primo tempo poteva finire 3-4-0 benissimamente perché la squadra è forte, la squadra punta a vincere il campionato. Noi non ci nascondiamo, poi il campo lo dirà insomma. Va bene, ti ringrazio Giovanni, vuoi fare qualche ringraziamento particolare a qualcuno? Sì, devo ringraziare il mister che mi ha dato l'opportunità di giocare, il presidente, il direttore sportivo. Un ringraziamento speciale anche all'allenatore dei portieri Giovanni Cirelga Tircobra, a Franchino Martelli e a tutti gli altri lo staff che c'è perché la squadra è abbastanza unita e siamo un bel gruppo quest'anno. Bene, ti ringrazio Giovanni e ci sentiamo alla prossima.